Si prostituivano in appartamento del centro di Mercogliano, due rumeni di 33 e 36 anni sono state scoperte e denunciate dai carabinieri. Le donne, dopo aver lanciato un annuncio online, accoglievano i clienti di ogni età per consumare rapporti sessuali a pagamento. A far scattare i controlli i residenti della zona, che hanno notato uno strano via vai di persone, a tutte le ore del giorno. I carabinieri, dopo aver ricevuto la segnalazione, hanno avviato le indagini. A postamenti, pedinamenti, ma anche interrogatori a clienti, hanno fatto scattare il blitz nella casa a luci rosse. Quando i militari sono entrati nell'appartamento, hanno ritrovato le due donne in abiti succinti e proprio da qualche minuto era andato via un cliente. L'abitazione era stata arredata al meglio per accogliere le persone. All'interno, i militari hanno sequestrato materiale pornografico e denaro in contante. Nello sviluppo delle indagini, i militari hanno proceduto all'identificazione di alcuni avventori che, discretamente avvicinati, non hanno potuto che confermare l'attività di meretriccio che avveniva in quella casa. I successivi accertamenti investigativi hanno consentito ai militari di individuare le responsabilità a carico di due uomini originari dell'Interland Vesuviano, i quali, avendo la comproprietà dell'immobile, lo avevano ceduto in uso alle due giovani donne, tollerandone l'illecito utilizzo della prostituzione.